Un caro saluto a tutti e un buon sabato, se è iniziato questo fine settimana di oggi, 24 marzo, sono le ore 18 e 25, bentornati su Spazio Informazione Libera sulla nostra pagina Facebook e bentornati anche su Spazio Informazione Libera nel nostro canale YouTube. Ma veniamo alle nostre novità, allora stiamo andando un po' a rilento con il cartone animato questa settimana, saremo al lavoro per organizzarci anche per tornare a fare le nostre escursioni, almeno si spera, speriamo nell'arrivo di un bel sole caldo, speriamo che arrivi questa primavera perché la primavera naturalmente ci apre un po' all'estate, al bel tempo, al caldo, è bello, dai. Allora, quindi ricordiamoci a proposito di questo, di mettere l'orologio in ora legale, quindi dobbiamo, ecco il dilemma, il dilemma, allora domani si cambia l'ora, andatevelo a vedere, oh, stanotte si spostano le lancette dell'orologio, come si spostano, andatevelo a vedere perché se no rischio di fare una di quelle gaffe, eh, proprio clamorose perché ancora non ho capito come si spostano queste lancette dell'orologio quando, quando c'è l'ora legale. Vabbè, comunque, eh, che dire, speriamo arrivi il bel tempo, ecco, quello sì, ma veniamo anche alle notizie di oggi, allora quante polemiche sono state fatte, eh, in questi ultimi giorni, per quanto riguarda le, eh, le elezioni dei presidenti di Camera e Senato, ci siamo riusciti. Eh, bene, benissimo, però chiaramente noi ci evitiamo, evitiamo di sprofondare in politica, perché se no si degenere, cioè fare un panorama notizie dedicato alla politica, proprio io ora in questo momento non me la sento, guardate ragazzi, non me la sento. Quindi preferisco rimanere sulle nostre notiziole di tecnologia, eh, di quant'altro, anche perché quando inizio poi a entrare in questioni politiche e poi dopo si fa buio, come si dice a Firenze, quindi evitiamo. Allora, pensate un po', a proposito di tutto ciò che c'è in rete, che è stata anche questa campagna elettorale, la campagna della, dei social network, no? Conoscete tutti, no? Come funzionano i social network, conosciamo anche cosa c'è accanto, no? Per quanto riguarda l'informazione, qual è l'informazione più o meno ufficiale, che di solito viene dalla rete, di solito quando però dobbiamo andare a verificare qualcosa, ci buttiamo spesso su Wikipedia, no? Questa grande enciclopedia, praticamente un progetto, un'opera veramente bella. Però esiste anche Negapidia, no? Negapidia è il lato conflittuale di Wikipedia. Ecco, conosciamo tutti Wikipedia, ma che cos'è Negapidia? Negapidia. Negapidia, se siete curiosi di sapere quali siano le voci italiane di Wikipedia, che suscitano più conflitti e più polemiche, ecco lo studioso lo ha svelato attraverso un nuovo sito. La notizia è lì ai news. Andiamo a vedere nello specifico di cosa si tratta, che cos'è questo Negapidia, eh? Che è questo? Un'altra cosa, bella, no? Che interessante, che c'è in rete, che è nata sulla rete, eh? Allora, per scoprire quanta conflittualità si nasconde dietro alcune voci di Wikipedia, quindi, è nato Negapidia Italia. Negapidia Italia è un sito, pensate un po', che svela il mondo sommerso dell'enciclopedia, più famosa del web, ispirandosi al già collaudato modello inglese. Grazie ad un algoritmo elaborato da Massimo Marchiori, matematico e informatico dell'Università di Padova, Negapidia individua e classifica le voci che sono state oggetto di maggiori contenziosi da quando sono nate ad oggi, proponendo anche delle top team e visualizzando per ogni voce il grado di polemica e conflittualità che hanno suscitato. Il sito è navigabile a vari livelli, sia per anno che per categorie di interesse, ad esempio cultura, persone, storia, scienza e politica, e per singole voci, grazie a un motore di ricerca interno. Bene. Pensate che un esempio, l'articolo, ha rilevato questo, no? Le persone più controverse in Italia, pensate un po', risultano essere un rapper tunisino, che si chiama Gali, e un altro rapper che si chiama Fedez. Seguiti dal calciatore Gianluigi Donnarumma, che appunto chiude la coda. Invece tra le voci più conflittuali in ambito storico ci sono il Popolo della Libertà e la Prima Guerra Mondiale, mentre a suscitare più polemiche è la Seconda Rivoluzione Industriale. Pensate un po' cosa non analizza questo siglio, non è capito. Andare a vederlo sarebbe molto interessante. Questa è la rete, ragazzi, questa è la rete, che è una cosa meravigliosa, una conquista umana, che ci dà la possibilità in qualche modo di muoverci, secondo quelle che sono le nostre passioni, no? Le nostre... così, idee. anche pagando un prezzo, chiaramente, questo è chiaro, no? La vendita completa della nostra identità. Questo è palese, cioè, la rete ha un prezzo. A parte, vabbè, il processo fisico, no? Che paghiamo alle compagnie telefoniche per essere, quindi, connessi a la rete. Però c'è anche il prezzo, no? Che noi paghiamo per essere iscritti gratuitamente a Facebook, per essere iscritti gratuitamente a Google e di tutti i servizi, appunto, gratuiti, no? Che non sono gratuiti, perché noi vendiamo la nostra identità. Ed è stato stimato, ho pensato un po' che la nostra identità, i nostri dati, praticamente, hanno un valore di 200 euro l'anno, no? Quindi 200 euro l'anno sarebbe il prezzo che noi dovremmo pagare in qualche modo al social network se i nostri dati dovessero essere preservati, proprio totalmente. In realtà non è così, perché poi, una volta registrati, questi 200 euro sono praticamente pagati dal fatto che io so, sanno quanti anni ho, so che segno ZDH le sono, sanno le fotografie che ho messo, sanno quante volte ho detto quella parola, quella frase, quel momento, sanno praticamente tutto, il profilo, man mano che passa il tempo si rinforza tutte le volte che noi mettiamo contenuti su internet. Questi video, chiaramente, se noi li cancellassimo in qualche modo, non sarebbero più disponibili per noi, ma comunque esistono in un backup che è praticamente immenso e in un certo senso possono da questo backup essere ripristinati in qualsiasi momento, malgrado noi si possa credere, no? In qualche modo che non ci siano perché magari ci siamo cancellati, ma no, è impossibile cancellarci dalla rete. Quando è un passaggio, una scia di orme, no? Delle orme che poi non riusciamo a cancellare. Questo è il prezzo che noi paghiamo per restare qua su Facebook, su Google, su altre cose. E va bene, ma comunque, questa è la rete. È una grande conquista, ma anche, comunque, ha un prezzo, ha un prezzo. Ed hanno un prezzo, hanno un prezzo anche le persone che in un certo modo vanno in televisione saltando completamente di palo in frasca, no? Quanto ci costa l'isola dei famosi? Eh? Quanto ci costa? Vabbè. Le tasche di Mediaset e Magnolia si stanno prosciugando a furia di pagare i costosi cachet. Sul gradino più alto del podio, nemmeno a dirlo, c'è la padrona di casa, Alessia Marcuzzi. Alessia Marcuzzi, secondo quanto riporta Libero Quotidiano, che è la conduttrice, percepirebbe 90.000 euro, 90.000 euro l'ordi a puntata. Eh? Bello, eh? Poi, dopo di lei, Mara Venier, con 50.000 euro l'ordi a puntata, mentre Daniele Bossari, pare si debba accontentare di soli 30.000, scusate, 30.000 euro l'ordi, sempre a puntata, ovviamente. Poi, il povero inviato, Stefano De Martino, riceve solo 25.000 euro a puntata, a puntata, eh? non in mese, a puntata. Stipendiati, ovviamente, anche i concorrenti stipendiati, no? Eva Enger, Francesco Monte e Nadia Rinaldi, che sono i più pagati, prendano rispettivamente tra i 30.000 e i 50.000 euro l'ordi, a puntata, a puntata. Ma non è finita qui, continua l'articolo, anche parenti e amici in studio prendano un gettone di presenza di circa 1.500 euro a puntata. Ecco, perché è a puntata? Perché mentre uno ha puntato, no? Mentre uno ha puntato, no? Prende molto meno, per esempio. Loro ha puntata, 50.000, uno ha puntato, invece, dell'arma ne prende molto meno, rischia la vita, magari, no? Invece, lì, sono dei famosi coccodrilli, sono di cartone. Allora, almeno, però, tutti questi soldi spesi non vengano dalle tasche dei contribuenti, che vengano dalle tasche, chiaramente, di una società che si chiama Mediaset e che ha in gestione anche Canale 5, ma non credo che si, se si passa al RAI, dove invece c'è anche il contributo pubblico, il nostro canone, che comunque viene distribuito in qualche modo sulle attività RAI, ecco, allora, a quel punto noi ci accorgeremo che sicuramente i personaggi della RAI sono pagati altrettanto bene, eh? Perché la RAI tratta peggio di Mediaset, non mi pare proprio. Vabbè, notiziole, notiziole stasera, io ora mi metto lì, mi studio un po' l'andamento politico di questi giorni che mi interessa tantissimo, sono stati fatti i presidenti della Camera e del Senato e ora ci avvieremo verso a chissà quale governo, vediamo un po' come si muoveranno queste forze politiche e nel corso anche delle nostre trasmissioni, chiaramente, nelle nostre attività di canale racconteremo qualcosa, forse qualche considerazione, vedremo un po', oppure lasceremo perdere, perché comunque la primavera ci farà sicuramente da spazzacammino su quelle che sono state le fuligini di questo inverno in relazione alla politica. Ragazzi, grazie per l'ascolto, buon fine settimana a tutti, tornate presto a seguire Spazio Informazione Libra in tutte le sue versioni, con tutti i suoi vestiti. Ciao.